Ad un anno dal sisma di magnitudo 4.5 che ha scosso il Mugello, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha effettuato un sopralluogo per tracciare un bilancio dei danni e degli interventi effettuati. Prima tappa il Palazzo dei Vicari, sede del comune di Scarperia e San Piero. Ma la zona più colpita è Sant'Agata, appena fuori Scarperia, dove alcune case hanno subito lesioni e l'abside della pieve ha ceduto. Un edificio simbolo del terremoto del Mugello e la chiesa di San Silvestro a Barberino del Mugello, dove la facciata distaccatasi per la scossa è stata assicurata nuovamente al resto della struttura. Adesso resta la necessità di sostenere quelle famiglie che hanno anticipato le spese per gli interventi. Proprio la presenza della protezione civile nazionale, io ringrazio davvero di cuore stamani di essere qui con noi, ci dà la garanzia che l'iter anche per attivare quelle risorse che sono state stanziate che naturalmente aiuteranno alla ricostruzione e al rimborso, perché molti interventi sono stati già fatti sia in sede pubblica che privata e per tutti coloro che hanno fatto i lavori con le perizie per il rimborso, la certezza che presto si potrà chiudere in qualche modo il capitolo del risarcimento da terremoto. Per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione delle prime case oggetto di sgombero e delle seconde case, sono stati stanziati circa 4 milioni di euro in forma di contributo singolo di 25 mila euro per ogni struttura, ma c'è una novità. Oltre ai 25 mila euro stanziati dal Dipartimento sulle abitazioni private, nell'arco dell'inizio dell'anno saremo in grado di mettere altri 25 mila euro da fonte regionale, da bilancio regionale per raddoppiare da dove è necessario questa cifra e quindi dare finalmente una risposta alle famiglie. Siamo un po' in ritardo, purtroppo la situazione del covid non ha aiutato, ma ci sono le condizioni per recuperare questo tempo. Con i 4 milioni e 600 mila euro del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale potranno essere realizzati i lavori al Palazzo Comunale di Barberino di Mugello ed il miglioramento e l'adeguamento sismico della Scuola Media Lorenzo dei Medici. A questi due interventi si aggiungono il consolidamento di sei cimiteri e l'intervento per l'agibilità di un alloggio di edilizia popolare nel comune di Scarperia San Piero.